Alex Danuti, il 41enne romeno che travolse ed uccise Barbara Steffian di 51 anni e la figlia Letizia Fiacchini di appena 10 anni a San Leo, tornerà di fronte ad un giudice per chiedere una pena più leggera. L'uomo che ubriaco alla guida della sua minicar lo scorso 31 gennaio investì mamma e figlia mentre passeggiavano in un marciapiede, è stato condannato in primo grado a 9 anni e 2 mesi di reclusione. Il 41enne assistito dall'avvocato Carmen Capoccia chiede una riduzione della pena inflitta in primo grado dal giudice Pier Giorgio Ponticelli. La difesa inoltre potrebbe richiedere per l'uomo una misura cautelare meno afflittiva ed alternativa al carcere e gli arresti domiciliari. Alex Danuti si trova in carcere dalla notte del drammatico incidente. È ritenuto pericoloso e non gli erano state riconosciute le attenuanti.